Buon pomeriggio! Forza Azzurri! Po, po, po! Facciamo in Italia? Le... Le opzioni! Le opzioni! Va a cazza puttanazza. Allora, non sento niente. Mamma mia. Fisico. Allora, io lo voglio fare aggressivo a merda. Cioè, io voglio che sia l'unico avatar che sia una belva. Lo voglio fare gigantesco. Con gli occhi incazzati. Vediamo se si può. Ma sto naso alla Pixar? No. E che è? Luca? No, no. Deve essere largo così. Largo. No, più larga la faccia. Più larga. Senza sopracciglia. Mamma mia, lo facciamo cyborg. Allora, occhi. Adesso è veramente... E Yu-Gi-Oh! ti batterò. Ci siamo. Ci siamo. Italiani! E poi ci mettiamo una barba gigante. Barba e baffi. Questo sembra uno di quei papà dei JRPG che muore nel prologo. Oh! Ok. Allora, manca qualcosa. Magari qualche pettinatura decente c'è. I capelli non sono un granché. Sapete chi è? Va bene. Facciamo un altro giro di barba. Ce l'abbiamo! È quasi Roman Reigns. Questa è Ariana Grande. Ariana! Dimmi. Veramente sta musica è merda, ragazzi. Io stavo impazzendo. Allora, ci siamo. Ritornerà. È nel blu. Allora, ci siamo. Guarda la faccia lì! Dove sono le opzioni in sto gioco di merda? Atleta! Cos'ho premuto che sta caricando quattro ore. Atleta! Ah, questi sono i membri della squadra? Posso copiare e incollare, ragazzi? Cosa succede se copio e incollo in tutti? Vedi? Profilo Facebook dello ZGG. Tutti i selfie così. Divise nere. Nero pece. Io devo arrivare a sfondarli con la testa così. Porca miseria, che bestia disumana abbiamo creato. Così mi piace. Se io faccio così e poi faccio... Mado! Mi piace! Eh, ma qua bisogna modificarle tu. Vabbè, lasciamo perdere. Perché sennò ci mettiamo tre ore. Giochiamo? Queste sono le qualificazioni. Che facciamo? Andiamo in ordine. Cento metri. Sono pronto! Gianni Fantoni, eccomi lì. Vai. Sì. Ssssshh. Stati staccando gli altri. C'è il replay? È possibile vedere un replay? Mi piace che il replay non faccia vedere... Madonna mia! È terminato! Avanza le semifinali, sì? A quando il test antidroga? Provo a farlo senza fare così che... Sono un pro a fare così. Provo a farlo normalmente col pollice. Ma come? Eh no, niente. Eh no, mi ha fregato! Sesto. Oh no. Ho sbagliato tutto. Ok! Ce l'abbiamo fatta! Qualificazioni. Oro. Mia, da cento metri a baseball! Playball! Ah, cazzo. L'ha cambiata all'ultimo. Ok. Ma è passata attraverso tantissimo. Con l'analogico è difficilissimo. Ecco, il mio secondo battitore. No! Siamo pazzi! Aspetta! Non... Ma che lancio? Come faccio a prenderla? Ma sei pazza? No! Porca troia! No! C'avevo la pazza bella! Allora, scelgo il lancio. Dritta due cuciture. Curva. Dritta quattro cuciture. Peccati questa! Vabbè, lasciamo perdere il baseball. Una bella partita di calcio con tutti i cloni. Sono tutti impelati! Madò, quanto non c'è la fisica in questo gioco. La mina! Che fuggilata! Non c'è un passaggio filtrante? La mina, mamma mia! Eh, sì! E i cross ci sono? Replay? Guarda la palla che è uscita fuori dalla rete! Non giocare a calcio tira ogni volta che hai la palla. Veramente? Ma io ho crossato! Era un cross questo qui! Che slegna che ho tirato! Eh, la madonna! Vorrei fare il mio tiro, se è possibile. Madonna! Perché tornate indietro le ha spezzato la colonna vertebrale così? Fia che mia! Avanza le semifinali, dai! Ho crossato! Ma che tiro! Ho caricato al minimo! No, vabbè, ma è un pippone lui! Ma scusami! Però è... Spreco tempo a fare gol, perché ci metto tre ore per far vedere i replay, le cose. Ci riproviamo! Al volo così! Sono le finali! Contro la Svizzera! Wow! Ma che spazzatura è! Guardalo lì! Guardalo lì! Il portiere che si lancia! Dalla parte sbagliata, tra l'altro! Abbiamo vinto! Ovviamente! Non poteva che finire così! Gli undici tutti uguali! No, ma con gli occhiali, lotta? Io non credo si possa! Ragazzi, non sto cap... No, non sto capendo! Ma questo è un pazzo! Ma mi sta massacrando! Non ho capito niente! Non ho capito niente! Ma come in Dragon Ball! Che devo fare? Oh! Madonna, sto uccidendo! Stai giù! Stai giù! Ho vinto io? Sì, ma non... Credo sia la stessa categoria di peso, comunque. E un'è andata! Finale! Attenzione! Cupido! Oh, qua ci si mena! Oh, mamma! No! No! Non mi hai fatto niente! Cazzo! Eh, no, è fortissimo! Sì! Dobbiamo recuperare tutto! Dobbiamo recuperare tutto! Ce la si fa! Carichi! Non fa male! Non fa male carichi! No, Karim! Eh, niente! 8-10, 8-10, 9-10! È andata malissimo! Cambiamo sport! Facciamo Beach Volley? Io mi ricordo giocavo un sacco di giochi di Beach Volley, quelli da cabinato, sul mame. Procca miseria! Mamma mia, che legna! Da qui! Ma come? E dove faccio i uguali? Quasi, eh? Vai, da qua schiaccio! Madò! Dei fotografi, che belli! Ha vinto! La Spagna? No, questi sono fortissimi! In diagonale così! No! Dà la presa! Iiii, mamma mia, che punto! È mio! Mamma! Bravo! Mato! Mato! Che finale! Presa! L'ho presa! Mamma mia! 5-0! K8! Eccoci qua! Guarda che robina! Guarda che robina! BMX per finire! Guarda come siamo giganti noi, lì, verdi! Verdi e rossi! Con la bici microscopica per i bimbi! Scusa, non ha saltato mica il mio? Ma che merda è? Scusatemi! Non riesco a saltare! Non riesco a saltare! Oh la madonna! Com'è possibile? Non fa schifo al cazzo anche questo! Gran finale! Gran finale! Ecco a cosa serve saltare bene, vedi? Ma come ho fatto a saltare lì? Scusami! Perfetto! Eh vai a cagare allora! Sono storto! Sono storto! No! 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 Non ti prego! Oh è che perso! Santo cielo! Ma che schifo fa sto gioco, ragazzi! Posto a 40 sberle! Vabbè, almeno la creazione del personaggio è stata divertente! Almeno quello! Ciao belli! Arianna! Dimmi!